E' una delle coppie più amate e chiacchierate del momento, tra polemiche, gossip ed eventi in grande stile. Chiara Ferragni e Fedez conquistano proprio tutti, ma l'ultima battuta del rapper ha fatto discutere e pare non essere stata gradita dalla sua dolce consorte. La battuta di Fedez. In occasione della finalissima di X-Factor, Fedez è stato accompagnato al forum di Assago dalla sua dolce metà, Chiara Ferragni, la quale ha sfoggiato un abito molto particolare con delle fantasie geometriche e giochi di prospettiva. Presenti alla finale anche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca. Fedez. Altro. Nel parti di rito, che è seguito alla conclusione della puntata, Fedez sembra davvero entusiasta. Il marito della fashion blogger è apparso molto soddisfatto della sua allieva Naomi, meritatamente arrivata alla finalissima. Afferrata una bottiglia di spumante, ha iniziato a spruzzarlo addosso a tutti i presenti. Nel far questo il rapper ha preso di mira proprio le tre Ferragni. Le sorelle però si erano nascoste dietro una parete a cercare di bere tranquillamente il loro bicchiere di vino. Avendo fallito nel suo gioco, nel tentativo di ironizzare e lanciare una battuta scherzosa, Fedez esclama, volevo riuscire a bagnare tutte e tre le Ferragni, ma in realtà ce l'ho fatta solo con una. Dopo essersi reso conto dell'allusione sessuale appena sferrata, il cantante è scoppiato in una sonora risata, mentre sua moglie scuote la testa visibilmente imbarazzata. Tuttavia, tra i due continua a regnare il sereno, sono una felicissima coppia di neogenitori.